Andrea Signorini, dirigente del Misano, saluti Andrea e benvenuto. Buonasera a tutti. Lui è salvo, però sarà ora che pensi anche a qualche cos'altro oltre alla salvezza. Sì, noi siamo a buon punto, adesso vediamo cosa succede domenica. Allora, Signorini, ci eravamo visti quasi tre mesi fa qui in trasmissione, eri a 10-11 punti dalla vetta, quel matto che è qua dietro il computer disse per me il Misano può farcela, Fabri disse ma no. Lui là, il Signorinviola disse Alfonsine, io mi ricordo perché alla fine non è che mi deludete sul più bello. Non dire che non fare come la Volpe non ci interessa, non voglio andare bene al calcio. Non faccio nessuna Volpe. Fa l'italiano qua, non lo spagnolo. Faccio l'italiano. Innanzitutto, visto che nessuno vuole vincere questo campionato, abbiamo cercato anche noi di non vincerlo, perché così ci siamo adeguati agli altri. Però a parte le battute... Le battute, perché qui veramente è una corsa da aspettare. È un campionato molto equilibrato, molto bello. Secondo me, alla fine, se lo stanno giocando due società che era inaspettato che se lo giocassero, diciamo che le grosse società blasonate non sono riusciti a fare i punti. E noi, nel girone di ritorno, è vero che l'Alfonsine ha mollato, però c'è da dire che il ruolino di marcia del Misano e del Castenaggio è veramente impressionante. Fino a 15 giorni fa, quello del Misano. Sì, i punti vanno contati quelli totali, perché fino a 15 giorni fa, io dico sempre che se uno vince tutte le partite vuol dire che è imbattibile. E non penso che il Misano sia imbattibile, anzi. L'ha dimostrato recentemente che ci possono battere. Un punto nelle ultime due partite che, insomma, sono quelle che potevano dare veramente la svolta determinante, lasciano un po' così noi osservatori. Immagino che anche, insomma, i dirigenti... Beh, noi sinceramente come società la stiamo vivendo in maniera molto tranquilla. È normale che come tifosi, quando sei lì, pensi a vincere. I giocatori sicuramente vogliono vincere. Lo staff tecnico vuole vincere, perché qualunque squadra che è arrivata a questo punto vuole vincere. Noi siamo tranquilli, quello che viene, viene. Per la prima volta, ormai è matematico, possiamo fare le prime due squadre, le prime due classificate. L'obiettivo a questo punto non dipende solo da noi, perché dipende anche dagli altri, ma al che vada faremo lo spareggio. Se avete modo di vedere tutte le immagini di ieri della partita da Cervia-Misano, conterete più tiri in porta del Misano che del Cervia, nonostante il Misano abbia giocato in 10 contro 11. Abbiamo qualche immagine, la vediamo così, signorini, vediamo se è ancora così sereno e tranquillo come cerca di... Eccolo qua. Allora, questo, Andrea, è il rigore... Sì, è il rigore censato. Adesso è fatta. No, ancora non l'aveva fatto gol. Marino non ne aveva sbagliato mezzo ancora. No, quest'anno ne ha sbagliate. Sì? È il terzo che sbaglia quest'anno. Però non è colpa di Marino, insomma, se siamo lì, anzi, dobbiamo dire tante grazie per tutti i gol che ha fatto Marino. Ah, su, rigore su Chiera, su Londè? No. Su Semprini. Semprini? Sì, un rigore che, io l'ho detto anche in tribuna, ci può stare, ma... Bertaccini era in porta? Bertaccini, sì, ha parato, è stato bravo. Bertaccini ha visto i filmati... Anche sulla respinta è stato bravo il difensore perché ha anticipato di un soffio marino. Purtroppo non era giornata. Non era giornata per lui, perché la squadra, la prestazione l'ha fatta, nonostante che eravamo in dieci, dal ventesimo abbiamo giocato sempre l'attacco, abbiamo cercato la vittoria. E' stata l'espulsione di Fasano, vero? Espulsione di Fasano al ventesimo per doppia munizione, la seconda munizione è molto, molto, molto ingenua perché ha subito un fallo, l'arbitro li ha fischiato a favore, come vedete l'avversario è andato a beccarlo, però il nostro giocatore da terra non ha fatto una reazione, ma io penso che sia una grossa ingenuità. Cosa ha fatto? Una reazione. Ha allungato il calcetto. Non l'ha colpito, perché mi sembra che ha colpito addirittura il nostro giocatore, però il gesto c'è. Ma scusa, il misano è il blu, no? Il misano è il blu, guarda. Ma il calcio lo prende quello blu, mi sembra. No, no. Se tu vedi... Le manda pure a velocità normale. Io non nascono. Subisce la punizione. Ha subito fallo, ha fischiato fallo. Dove? Ecco, guarda al nove se non gli dà un calcio quando è per terra. No, quando è a terra gli va a dire qualcosa... Guarda il calcio. La mano. E lui, guarda, cerca di allungare. Aspetta, aspetta. Tu, quello l'avevo visto, eh? Sì, l'altro. Eh, vabbè. No, però lui ha munito il nove per il gesto che ha fatto adesso e poi il Fasana che era a terra. Guarda, cerca di colpire, ma colpisce il nostro giocatore. Però non c'entra niente. È il gesto che... E l'altro gli ha dato... Sì, sì. Il gesto è ingenuo, perché poi il mister ha dovuto cambiare, diciamo, la sistemazione in campo. Nonostante questo abbiamo avuto le occasioni. Mi dispiace, insomma. La domanda da 100.000 dollari. Il mister. Chi è il mister? Eh, il mister. Sapete chi è il mister? No, non so se lo posso... Chi è il mister? No, no, si può dire tranquillamente. Cioè, a Misano c'è un responsabile tecnico che è Fernando Argila e c'è un allenatore che è Andrea Filippucci. Ok, bene. Senti, rispondemi sinceramente. Portare il cognome Argila è un cognome a Misano importante. Nandito, il figlio di Nando, insomma, doveva dimostrare tanto. Eri così sicuro che fosse all'altezza di la verità, però? No, che facessimo questo campionato, no. Al mio interesse, come ho sempre detto, era che proseguisse il progetto che abbiamo iniziato. E quindi, l'anno scorso, quando Fernando Argila, padre, mi ha informato di questa possibilità che c'era di andare a Cesena, siccome che con noi c'era un accordo pluriannale, io la condizione che gli ho posto, gli ho detto, io ti lascio andare, però la condizione deve essere che tuo figlio, che in quel momento era un collaboratore della Cesena Primavera, venga lui a portare avanti questo progetto. Io non nego che il padre è un punto di riferimento importante, e ancora oggi, ieri era presente in tribuna, segue quando può la prima squadra, segue il settore giovanile, diciamo che dal punto di vista sportivo è il nostro uomo. E a Cesena che aria tira per Argila? Beh, questo non lo so. Io penso che Cesena abbia iniziato un progetto sportivo importante, parla del settore giovanile, e se tornano indietro, secondo me, fanno un gravissimo errore. Mutano via un anno. Mutano via un anno e soprattutto una società come Cesena deve tornare a fare quello che faceva... Deve imparare dal Misano. No, no, non deve imparare dal Misano, deve imparare a fare quello che faceva tanti anni fa Lugaresi, che ogni anno sfornava un giocatore e si ripagava il budget per fare la Serie A o la Serie B a seconda degli anni. E non aveva bisogno di pescare Mutu. Allora, Giuseppe Delbianco, il tuo parere rispetto a questo finale di campionato? Se andranno a fare questo spareggio, cosa conterà e chi arriverà favorito? Secondo il mio punto di vista, domenica ci potrebbe essere anche qualche sorpresa prima di arrivare allo spareggio. Cioè tu dici un massa che deve dimostrare di essere all'altezza di battere lì? Mai dire mai nel calcio, però ovviamente i pronosti ci sono per uno spareggio. Allora, giustamente arriva... Volevo solo soffermarmi su una cosa, sull'arbitro che veniva da Vibo Valencia, mi sembra, vero la signora che arbitrava? Da Vibo Valencia. Ieri c'erano due arbitri, Romagna Centro Castanaso, l'arbitro era di Palermo. E il Cervio a Misano da Vibo Valencia. Ma sono tutti male. Io personalmente lo dico in televisione perché l'ho detto anche ai responsabili della federazione. A noi quest'anno è successo diverse volte. Addirittura un mercoledì Misano a San Pierana, arbitro da Trieste. Per me queste qui sono assurdità nel calcio. Per noi società che risparmiamo i centesimi di euro, che la federazione si permetta, io come altre società ci stiamo giocando un campionato, ma per me lo stesso valore che hanno questi arbitri qui c'è a Rimini, a Cesena, a Bologna, a Modena. Non c'è bisogno assolutamente, ci può essere semmai un interregionale nelle Marche, ma secondo me queste cose qui oggi come oggi sono cose assurde. al di là del valore degli arbitri. Ci è capitato qualche settimana fa un arbitro che addirittura veniva dalla campagna e l'avevano fatto arbitrare la mattina una partita giovanile a Pesaro e il pomeriggio è venuto a arbitrare una partita di eccellenza. Cioè secondo me non è possibile. Beh comunque l'eccellenza è un altro campionato, bisogna stare attenti. Sì direi proprio di sì, anche se quest'anno in testa alla classifica c'è il Misano che ha meno 5 in media inglese e 7 sconfitte. Sì adesso i numeri non... Beh però sono numeri che solitamente... Comunque ti ha fatti i conti, hai visto signorini, per scherzare. No vabbè, è un campionato molto equilibrato, quest'anno non c'è stata la squadra che è scappata via e sono stati fatti dei grandi strappi da una squadra e poi sono stati ripresi. Tutte le squadre hanno attraversato un momento difficile, noi l'abbiamo attraversato alla fine del girone di andata perché fino a un certo punto eravamo andati bene. Misano Shopping a dicembre? Misano Shopping a gennaio, è andato Sartori a San Marino e naturalmente i giocatori devono andare se c'è la possibilità di andare, c'è stata una richiesta per Sartori e noi l'abbiamo... Grandi parole di mister Petrone, bel gioco, bravo, 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 però un minutaggio era un giocattolino che funzionava troppo bene. Ti ringrazio di questa domanda perché nel momento in cui abbiamo fatto la trattativa era presente anche il mister. ha detto queste parole al ragazzo che lui, il giocatore lo voleva già da quest'estate, ed è vero, e che ha voluto fare questa operazione a gennaio per anticipare i tempi per l'anno prossimo perché lui ci crede in questo ragazzo e doveva affrontare questi mesi per capire com'è il mondo dei professionisti. Io auguro a Matteo Sartori di rimanere tranquillo e di ricordarsi di queste parole che gli ha detto il mister Petrone e sono convinto che la strada per lui è in discesa. sta facendo dei sacrifici, ne ha fatti tanti nell'ultimo anno per tornare a essere un giocatore importante. io personalmente, qualcuno a Misano mi sta criticando perché ho ceduto Sartori a San Marino dicendo che se c'era Sartori sicuramente Misano avrebbe potuto vincere il campionato. però io ricordo che il nostro progetto è il Misano Shopping. La boutique del calcio. Ti sei tradito, hai detto ho ceduto. Lei è un dirigente, signorini. Ho ceduto, sono un dirigente. Ecco, ho ceduto lo può dire il presidente. Il presidente? È al massimo il direttore sportivo, stia attento. In Misano non c'è il direttore sportivo. No, perché conosco il presidente e dopo la faccio pizzicare dal presidente. Dico ho ceduto perché alla trattativa ero presidente io. Allora qui un altro messaggio. Bravo signorini, speriamo che il Cesena sia una società intelligente. Scrive Mario. Qualcuno dice che il Misano è cotto? No, lo so. Non lo sa. A me sinceramente non risulta. Ieri la prestazione l'abbiamo fatta, in dieci abbiamo dominato. È vero che giocavamo contro il Cerve, che fra l'altro anche il Cerve ieri era la partita della vita. Perché se il Cerve ieri perde con noi purtroppo ha mezzo piede in promozione. Domenica prossima, fra l'altro il Cerve si gioca tutto a Castel San Pietro. Se guardiamo il prossimo turno... Guardiamolo velocemente e poi chiudiamo. C'è il prossimo turno dove per la lotta per la salvezza c'è un Castel San Pietro-Cervia che ci si gioca la retrocessione diretta insieme al Coriano. C'è Faenza-Ribelle, che è l'ennesima partita degli ultimi anni, capita sempre Faenza-Ribelle. Misano-Sasso-Marconi, si inizia alle 4 e mezza, vero? 4 e mezza. 16 e 30. 16 e 30. E l'altra naturalmente è quella che vede... Dove la trovo? Oh mamma mia. Copparesi-Alfonsine e l'altra... No, Castenaso-Massa-Lombarda. Stavo leggendo un messaggio con Copparesi, scusate. Allora, signorini, ci vediamo fra due domeniche, fra due lunedì. Sarebbe un bel segnale. Fiedi qua e mi occupi tutto lo studio. No, non lo so, questo non lo so, adesso vedremo. No, io loro li voglio vedere al calcio beccato, li mando... Tu mi dici che io sia un politico. Io dico che per la società come Misano, aver raggiunto questo risultato è un risultato... Ma a me me la vuoi raccontare, a quelli che guardano questa trasmissione. Ma non ci credi? La strada è lunga, la strada è lunga. Adesso sei italiano negli ultimi 90 minuti, vuoi vincere. Adesso sei italiano. Tutti vogliono vincere, però la strada è lunga. Per fortuna, oggi siamo in una posizione dove domenica abbiamo una partita e possono esserci tre risultati, perché possiamo vincere noi, possono vincere loro e ci può essere lo spareggio. Abbiamo lo spareggio, eventualmente, e anche lì ci sono due risultati e se arrivati i secondi c'è la strada... Perché ci sono due risultati? Perché nello spareggio, o vinciamo o perdiamo. Ah, no, no, se pareggi c'è supplementare, non c'entra niente. E eventualmente, avendo guadagnato sia noi che il Castenaso la certezza che siamo le prime due matematicamente, c'è il play-off a livello nazionale. Quindi, io ripeto, tre mesi fa, se qualcuno ci avesse detto una cosa del genere, tu conosci Alvio Semprini, noi tre mesi fa sinceramente non avevamo l'ora di superare i 40-42 punti. Dopo è normale che si prendi gusto, cioè, penso che ogni dirigente, ogni giocatore... Sono d'accordo fino a un certo punto, perché io una volta ho parlato tre mesi fa con Marino, che era 11 punti, e lui diceva, a noi non ci manca niente per stare davanti. Ed era convinto, eh, Marino. Ma è vero, ma è vero. Assolutamente. Il gruppo, i giocatori e lo staff tecnico lavorano in quella direzione da, non dico da quest'anno, forse dagli anni passati, perché quel gruppo che si è formato oggi viene da un lavoro iniziato tre anni fa. Senti, fra cinque minuti ci sono quelli del Rimini. Sai niente se il tuo Deux, ex macchina, socio, Capicchioni sbarca a Rimini? Perché lo aspettano tutti, prima nel basket, adesso nel calcio, la polisportiva. Flirtano, amati Capicchioni. Se così fosse, io sarei molto contento. Non è che dopo sposta i suoi interessi da Misano a Rimini? Penso di no. Ne ha tanti. Si strutturano ancora di più. Una domanda da luce. Gli argentini, chi fine faranno a fine campionato? Gli argentini? Io mi auguro che non rimanga nessuno, perché vuol dire che hanno trovato tutti una sistemazione in categorie superiori. So anche che sarà difficile che tutti... Potrebbero tornarsi in Argentina? Qualcuno, è probabile. Cioè, quelli che sicuramente non trovano, diciamo, sistemazione in categoria superiore, è probabile che vengono prese delle decisioni anche da parte nostra. Staremo a vedere. Sì, anche da parte loro. Dobbiamo...